Questo teatro va a chiudere il mondo. Dalla nascita dei due gemelli fino alla comparsa di Shakespeare sulla scena letteraria inglese. Non si disporre di altri due. A causa di tutti gli studiosi si riferiscono al periodo tra il 1585 e il 1592 come... 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 Che tira la prima staccata lo infilzò fino all'elsa. Parola di soldato. Di soldato. Essere o non essere. Il giorno dopo arriva una compagnia teatrale. Hospite d'onore della serata... Willy! Anne Hathaway! Brava! La nella foresta lasso sul monte nero, c'era un cowboy che si chiamava Piero. E la sua cavalla dormiva nella stella, mentre lui vedeva legamento in te. Coraggio! Musa l'immaginazione! Fa volare la fantasia, esci fuori e corri, corri, corri con il vento ancora dai. Adesso esci a cavalcare le nuvole del cielo e quando sorge la luna all'orizzonte... V movements... Come... Vabbè, 15 Employment. Come... 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 E... Come... If... This... Pleasures... May... You... Move... Then... Live... With... Me... And... Be... Agli anni perduti! Le fa buone portatrici di pesi! È lei che si calde! Non so, caro, William non fa le stesse cose che fanno gli altri ragazzi. Non ride, non si diverte. Alle pesche non balla. È così, noioso. Ma io ho dentro qualcosa che oltrepassa lo spettacolo. William! Ma si può sapere che cosa fai con questa roba addosso? Ma non senti che calo che fai? Ma... William! William! Di me è il più grande ramo attunno mai esistito! Questa faccenda è finita bene. Live with me and be my love Io! Ciao! Grazie a tutti.